Ancora un sequestro di droga nelle acque del Salento, operato dalle fiamme gialle a meno di 48 ore e dall'ultimo ingente sequestro di droga in mare, i finanzieri hanno sorpreso altri trafficanti che, come da copione, hanno cercato di darsi alla fuga nel vano tentativo di acquisire maggiore velocità e sfuggire la cattura, si sono liberati di tutto il carico gettandolo in mare. È iniziato quindi un breve inseguimento condotto dalle unità aeronavali del corpo che si è concluso poco dopo con l'abordaggio dell'imbarcazione a circa 25 miglia a largo di San Cataldo. A bordo erano presenti due albanesi di 48 e 30 anni, entrambi di Valona, arrestati per detenzione e traffico internazionali di stupefacenti e posti a disposizione della locale autorità giudiziaria. La marijuana, recuperata e sequestrata dai finanzieri anche dal mare, era confezionata in 28 colli di varie dimensioni, tutti recuperati in mare, del peso complessivo di 506 chili che avrebbe fruttato al dettaglio oltre 5 milioni di euro all'organizzazione criminale. Il mezzo utilizzato per l'illecito traffico, un gomone lungo 7 metri con un potente motore fuori bordo, portato agli ormeggi della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Otranto, è stato sequestrato.